Per andare a Decathlon, guarda il foglietto di via Michelin no? Scariato! Ma perché non ci sia un prima bel Tom Tom scusa? Un po' di qui! Ma vai! A destra? A destra, a destra! Tutto a destra! Aspetta di scurreggia! Sei te eh? Si! Ma gli è nasciuto la Tori!